Se la mente degli esseri viventi è impura, anche la loro terra è impura, ma se la loro mente è pura, lo è anche la loro terra. Non ci sono terre pure o terre impure di per sé. La differenza sta unicamente nella bontà o malvagità della nostra mente. Oggi siamo venuti a conoscere la riserva del Monte Labro, siamo alle pendici dell'Amiata, siamo insieme a Cesare Papalini. Questa riserva si trova in una zona molto particolare. La riserva venne fatta perché già in questa zona c'era il Parco Faunistico del Monte Amiata. Era una struttura che aveva realizzato all'inizio dell'anni 80 il Comune di Arcidosso. Successivamente, questa riserva, siamo andati avanti con una convenzione con la Regione Toscana per la gestione. In seguito, con alcuni progetti Life ed altri progetti, siamo riusciti come comunità montana, sponsorizzati sempre chiaramente dal Comune, siamo riusciti ad acquistare ulteriori terreni e siamo riusciti a fare un insieme di circa 100 ettari, tutti gestiti dall'ente pubblico, solo ed esclusivamente per la protezione dell'ambiente. Infatti qui ci sono dei recinti dove ci sono stati messi degli animali, abbiamo anche un recinto con i lupi. Gli altri animali, come avete visto nel venire, si vedono abbastanza bene, da Aini, Caprioli, ci sono poi l'asino dell'amiata al sorcino crociato. Qui siamo in un'area a predominanza di calcari e è sempre stata pascolata. Ultimamente, che è successo con l'abbandono dell'agricoltura e dei vari che non era più renditizia all'agricoltura e la pastorizia in particolare, questi bellissimi prati si stavano degradando. E noi stiamo intervenendo per cercare di mantenere il più possibile tutte queste praterie perché non si degradino e non diventino poi, si evolvano diciamo così in arbustete e verso altre cose. Poi ci sono anche delle grotte, se vedete per esempio noi stiamo facendo un live ora e ci sono anche delle grotte dove ci vanno i pipistrelli e abbiamo con questo live che si chiama Save the Flyers, abbiamo diciamo così sistemato tutte queste cavità naturali per impedire l'accesso in maniera che i pipistrelli non possano essere disturbati. Un visitatore che arriva qui al centro visite, il primo riferimento è quella costruzione che vediamo, lì all'interno proprio da pochi anni è stato fatto un'aula didattica, lì si vedono davvero delle belle cose, si vede il nibbio reale, si vede il progetto relativo ai pipistrelli, insomma già arrivando qui ed entrando nell'aula didattica si vedono, si ha un'idea poi di tutto il territorio che poi uno andrà a visitare. Siamo riusciti sempre grazie a questi progetti live a inserire una persona, un ragazzo piuttosto in gamba, Camarri Francesco, che sta facendo didattica e qui, cioè quando arrivano le scolaresche perché qui l'ambiente è piuttosto simpatico, carino e ben attrezzato, ci abbiamo fatto tutta una serie di tavoli, aree di sosta e il Camarri Francesco li porta a passeggio questi ragazzi spiegandogli tutte le questioni che vi dicevo delle praterie, di tutti gli uccelli e di tutti i rapaci e di tutte le cose che ci sono in quest'area. Prima di partire alla scoperta del parco faunistico, merita passare qui dentro nell'aula didattica, vi ci sono illustrati un po' di progetti e quello che si trova sul territorio. Questa aula didattica è stata inaugurata a novembre del 2011 con il progetto Life Save the Flyers, che significa letteralmente in italiano salva i volatori. Questa parte qua è dedicata al nibbio reale, come vedete qui, e ai rapaci diurni principalmente presenti in zona, quindi sono raffigurati i principali rapaci diurni che sono presenti qui in zona, sulla miata. Dall'altra parte invece, dietro alle vostre spalle, abbiamo la parte dedicata ai chirotteri che sono anch'essi volatori, ma sono dei mammiferi e sono gli unici mammiferi che volano. Il nibbio reale, che è un bel animale, non è poi così difficile incontrarlo poi anche fuori. E' bellissimo soprattutto in volo perché viene chiamato anche forbicione. Se lo trovate normalmente, qui vediamo un esemplare in volo, naturalmente una raffigurazione, lo potete distinguere assolutamente da tutti gli altri perché la forma della coda è a forbice, giusto appunto forbicione. Grazie a tutti. Ecco dunque ci siamo spostati dal centro visi, siamo in passeggiata, siamo con Marta e Francesco, sono diversi gli itinerari a disposizione, quello che stiamo facendo in questo momento che itinerario è? E' praticamente quello principale, stiamo percorrendo la sterrata che dal cancello di entrata del parco, ci dirige verso la direzione e lungo questo sentiero possiamo osservare tutti gli ungulati del parco, quindi daini, cervi e mufloni. Ci sono due recinti principali, quello praticamente alla sinistra del sentiero contiene cervi e daini e quello invece a destra del sentiero contiene daini e mufloni, quindi stiamo spiegando praticamente tutte le differenze ecologiche, sia morfologiche che comportamentali, delle specie di ungulati appunto che stiamo osservando e stiamo provando anche ad osservare il lupo. Il fatto è che non sempre, tutti i giorni si può vedere tutti gli animali, intanto si vede c'è un bel panorama perché abbiamo l'amiata da una parte, montelabbro dall'altra, inflorescenze meravigliose come queste ginestre che ci sono qua intorno, però è chiaro che non è che si può vedere, che è garantito che si vedano tutti gli animali, però ce ne sono talmente tanti che più o meno si riesce a vederli tutti. Questi ungulati di cui abbiamo parlato sono tutti autoctoni o sono stati introdotti negli anni e arrivano da altre parti? Sono autoctoni, il cervo in natura qui nel comprensorio amiatino attualmente non c'è, però appunto fa parte della fauna italiana, come ne fa parte il muflone, che però appunto anche il muflone in natura non c'è qui nel comprensorio amiatino. Il daino, diciamo che ancestralmente non faceva parte della fauna italiana, è stato rintrodotto a scopo venatorio ornamentale e di derivazione asiatica, però in Italia adesso lo possiamo trovare in tanti settori e anche in tante aree protette, soprattutto se recintate. il parco faunistico è circa di 200 ettari e sono presenti aree faunistiche all'incirca di 20 ettari, quindi gli animali non sono in libertà ma sono in semilibertà, che differenza c'è? Che non sono come in uno zoo ma sono in aree faunistiche dove possono svolgere il loro ciclo vitale in maniera tranquilla, senza avere problemi, quindi senza avere quelle problematiche che possono sorgere all'interno di alcuni zoo. Questo permette anche di visitarli, appunto facendo questi percorsi, sapendo dove loro pascano, dove si abbeverano, è abbastanza facile individuare e quindi farli vedere ai visitatori. Non solo ai visitatori, in particolare noi ci teniamo a farli vedere alle scolaresche, ai bambini che sono del nostro futuro, per poter far vedere loro come funziona in natura e il ciclo vitale degli animali, soprattutto ad avere rispetto, l'educazione mentale è fondamentale in tal senso. L'esperta del progetto sul lupo è Marta, un progetto che voi state seguendo da tempo? Sì, adesso in provincia di Grosseto è in itinere il progetto Life Ibrid Wolf, che vede la provincia di Grosseto come partner capofila e che appunto cerca di preservare l'integrità genetica del lupo in provincia di Grosseto e quindi di evitare l'incrocio tra lupi e cani vaganti e quindi anche di ridurre il problema del randagismo canino. Si stanno portando avanti molte attività concrete e si cerca appunto di togliere dal territorio gli individui ibridi, quindi che derivano dall'incrosso di lupi e di cani vaganti. Vorrei tornare con Francesco a parlare un po' di questa vegetazione, un'esplosione di colori, queste cinestre meravigliose, ci sono le cinestre e se ci spostiamo un po', Francesco e Alessandro ci seguono, abbiamo qui anche degli esemplari di viola etrusca, magari ci mettiamo anche giù, mi tolgo dal fargli ombra. Allora, questa è viola etrusca. Dobbiamo ringraziare un tedesco perché è stato lui a riconoscere la differenza tra questa viola e un'altra viola che è molto simile ma ha questa parte qui, quindi il fusticino, molto più corto. Quindi non è recente, è recente la scoperta, circa una quindicina di anni fa, all'incirca. Quindi insomma si è stabilito che è una specie a sé stante. Una specie endemica, quindi tipica di qui, ce l'abbiamo solo qui in questa zona, quindi Montelabro, Montebuceto, Montaquilaia, quest'area qui e poi alle cornate, a Gerfalco. C'è di due colori, ora questa che abbiamo qui sotto è una viola veramente viola però ci sono anche di altri colori. Sì, c'è un colore più sul chiaro, quindi bianco giallo e un altro intermedio, quindi sul rosino. Una raccomandazione da fare veramente a chi viene in escursione di non provare a cogliere lì, intanto perché sono protetti e poi perché magari chi passa dopo vorrebbe trovarci e vederli. Certo, assolutamente sì. Un'altra particolarità di questa zona, mi fa piacere precisarlo, è che tutta questa zona per arrivare fino a tutta la riserva del Montelabro è riconosciuta come sito di interesse comunitario e sito di interesse regionale e è così nominata, splendide fioriture ed orchidee su praterie calcare, quindi da ora fino a giugno compreso noi troviamo delle fioriture scalare per arrivare fino su al Montelabro, quindi man mano che saliamo di altitudine, che sono favolose. Il parco faunistico del Montelabro, come tanti altri parchi che abbiamo visitato, conserva anche importanti tracce dell'attività, della presenza umana. Nel parco faunistico c'è una presenza veramente particolare, ora siamo arrivati qui sul Montelabro, siamo a circa mille metri, un pochino di più e qui c'è una storia veramente particolare perché qui dopo la metà del 1800 Davide Lazzaretti, un personaggio qui dell'Amiata, ebbe una conversione e qui creò una comunità. Esatto, qui costituì una comunità che si chiamava una comunità di famiglie cristiane che iniziò con un'ottantina di famiglie che venivano qui, lavoravano insieme, mettevano in comune, un po' sotto legida evangelica, mettevano in comune i loro beni e in poco tempo costruirono un ambiente portando tra l'altro tutto da basso, quindi tutto o someggiato oppure proprio con le mani nude e costruirono prima questa torre dell'Alleanza, che è un pochino di architettura nuragica, sembra, e poi costruirono tutta una serie di servizi, scuderie, magazzini, abitazioni che poi ovviamente sono andati distrutti, ma riuscirono ad arrivare fino a 5.000 persone e costituirono un bel esempio per quei tempi. Qui nella roccia c'è una fenditura che fu utilizzata per crearci un altare, è una fenditura naturale? Sì, sì, qui ovviamente sfruttarono un luogo che è bellissimo da tutti i punti di vista, sia per la posizione, sia per l'aspetto del panoramico, ma soprattutto per l'eremitaggio, questo era un luogo proprio di una tranquillità impressionante e quindi era il luogo ideale per pregare, per lavorare insieme, per stare insieme, per vivere in un modo diverso da quello che in quell'epoca vivevano i cittadini della De Lamiata. L'esperienza di Lazzaretti durò in realtà una decina d'anni, fu ucciso quando alla testa di una processione stava andando verso il Cidosso, era stato spacciato le sue processioni come elementi di ribellione, come cortei di protesta, in realtà non era questo. Però c'è da dire una cosa, ha lasciato insieme importante perché tanti se lo ricordano la De Lamiata e poi fu anche avveneristico perché allora lui parlava di cose che oggigiorno sembrano naturali, lui parlava del voto alle donne, lui parlava di istruzione obbligatoria per tutti, parlava di un lavoro di tipo cooperativistico. Certo, certo, qui c'era una scuola proprio per i bambini, il voto lo avevano le donne direttamente perché votavano gli organi interni alla comunità, quindi fu il primo esempio. Per quanto riguarda la cooperativa addirittura andava oltre perché mettendo in comune tutti i guadagni dei lavoratori riusciva a sopperire anche alla miseria di quel periodo perché erano veramente periodi difficili. Abbiamo detto che questo luogo fu scelto a Davide Lazzaretti perché è un luogo mistico, un luogo di raccolta, però è anche un luogo di una bellezza spettacolare perché da qui possiamo vedere un panorama fantastico. Alle nostre spalle c'è il Monte Lamiata, di fronte a noi c'è l'Argentario, si vede fino all'isola del Giglio, nelle giornate di chiaro si vede fino alla Corsica, insomma è un posto veramente fantastico. Direi di sì, non a caso è stato prescelto tra uno dei cosiddetti siti di importanza comunitaria, zona di protezione speciale per l'Avifauna, per un insieme di caratteristiche dato poi che ricade anche nella riserva naturale del Monte Labro, quindi delle peculiarità che hanno sempre la loro conferma tutti gli anni con specie di uccelli nidificanti, con mammiferi, anfibi, rettili molto interessanti e soprattutto molto di grande valore conservazionistico. Arrivando nelle vicinanze del Monte Labro colpisce una cosa, intanto arrivando dalla parte di Rocca Albania a una forma quasi perfettamente piramidale e poi è l'unico Monte Brullo perché tutte le altre monti qui sono ricoperti di grande vegetazione, qui invece è molto spoglio, c'è una vegetazione molto bassa. Certo, questo è stato sicuramente uno degli scopi che ha reso possibile la realizzazione di un Life Natura, uno di questi strumenti comunitari su cui si fonda tutta una serie di finanziamenti proprio per la conservazione, pensiamo alle praterie cosiddette casmofitiche, quelle più basse, qui siamo in una fase in cui se non si attiva un pascolo moderato si trova una possibilità di avere maggiore riforestazione, quindi l'apertura di questi posti viene a diminuire e quindi vengono a mancare degli elementi importanti della biodiversità, ecco perché questa zona ha particolare valore. Conoscere e viaggiare attraverso le riserve naturali provinciali vi permetterà ogni volta di tornare a casa con ricordi e esperienze diverse anche per gli ambienti che potrai osservare, dal mare alla montagna, dalle paludi ai boschi più impenetrabili, esse costituiscono un immenso patrimonio storico, culturale e naturalistico ambientale che potrai scoprire e fare tuo con intelligenza e sensibilità. Grazie di tutto cuore e visitateci! Grazie a tutti! Grazie a tutti!